fattore w se l'asse portante di qualunque quintetto base di una squadra di pallacanestro resta quello playmaker pivot allora per la vanoli cremona questa è la formula speriamo magica fattore w w come ben hoodside w come tj watson che con un po più di fantasia può diventare anche una sigla wow le prime due lettere sono del regista americano firmato ieri dalla società bianco blu e poi c'è quella iniziale del centro ex milano e bologna da ieri coach gresta ha nel roster il suo playmaker titolare ben hoodside arriva con un biglietto da visita molto interessante è il miglior passatore dell'ultimo campionato turco 7.1 assist a partita record che risulta imbattuto anche se messo a confronto con i migliori play degli altri principali campionati europei spagna grecia russia e italia hoodside è nato nel minnesota a nord degli stati uniti ma il passaporto georgiano e dunque comunitario lascia la maglia del ted college ilier e ha un passato anche in eurolega con una delle squadre più prestigiose del vecchio continente l'olimpia lubiana con cui ha giocato nel 2011 era la nostra prima scelta ha dichiarato anche un po tatticamente coach gresta e ora sarà interessante vedere come si integrerà la coppia woodson-watson il fattore w per l'appunto l'esperienza i muscoli e la spiccata tendenza allo showtime del centro unite alle doti di passatore di sfruttare il pick and roll e di tiratore di woodside gli ingredienti sembrano quelli giusti gresta vede ora completati quattro giocatori su cinque dello starting fight titolare mancala la forte soddisfatto sembrerebbe proprio di sì aggiudicare da questo post sul suo profilo facebook di ferragosto sta nascendo una bella cosa ha scritto gresta cosa che fa rima con rosa le spine semmai arriveranno dopo